Benvenuti ragazzi e bentornati qua con un nuovissimo video, come sempre siamo tornati su Fortnite ragazzi e oggi un video molto divertente ma molto occhio perché vi fa un po' incazzare Voi ragazzi da quanto giocate a Fortnite? Io ragazzi da poco prima della season 2 quindi dal Cavaliere Nero diciamo Come sempre se volete un altro episodio del genere, una seconda parte chiamatela come volete, fatemelo sapere, spaccate il like qua sotto e un commentino Ma prima di iniziare ragazzi vi faccio una domanda, voi avete mai incontrato hacker in questo gioco? Io sinceramente no ed è anche un bel po' che gioco ma per fortuna ancora niente Perché quello che andremo a vedere oggi se succedeva a me ragazzi io prendevo la Playstation o dove giocavo e la buttavo giù di sotto e ci finiva anch'io eh, mi ci cacciavo anch'io Quindi ragazzi io direi di non perderci in chiacchiere, andiamo subito a vedere le clip di oggi che sono veramente veramente belle ragazzi e curiose E niente ragazzi non perdiamoci in chiacchiere, il like l'avete già lasciato grandissimi e niente, vamos Tamones Ok eccoci qua ragazzi vedremo anche streamer stranieri, americani e tutto eh Prima clip eccolo qua ragazzi sto qua corre come se fosse buggato ma gli sta hitando Stai hitando non gli leva niente a lui, raga, questa qui corre, corre buggata ma hita raga Lui non capisce un po' che sta succedendo, stiamo a vedere raga eh, guardate Boom! Morto, così è morto da chi? Da cosa? E guardate ora ragazzi, attenzione 87 kill Cioè sto qua ha fatto 87 kill Com'è possibile? Cioè dai ragazzi davvero succedesse una cosa con me, cioè così con me io urlo Mamma, uva urlo eh, che se non mi sentono fino laggiù in fondo non sono contento Grande bomba, eccoci qua Questo qua invece ragazzi che sta mitraglietta ha tipo l'hack che prende tutti Qualsiasi distanza lui basta che spara prende, prendere e prendere Che poi sta mitraglietta ragazzi la sapete benissimo da distante smira più che tutto Guardate eh 8 kill già Cioè cose da matti raga, un po' non si può giocare così Guardate eh Guardate la spara Tutto tutto Guarda, guarda, laggiù ragazzi dietro dai Ma come si fa raga? Cioè no, morire così rosico davvero Un altro, un altro sottoterra con 52 kill E chi sei? 52 kill Roba da matti ragazzi Adesso ragazzi guarderemo tante altre clip Fatemi sapere già nei commenti ora cosa ne pensate di questi qua che usano sta roba qua Eccolo qua Che bello il Morto Stavo dicendo che bello morto Va a vedere giustamente com'è morto ragazzi E guardate Però stavo dicendo quanto è bello il costume dello schietro Vabbè sta qua ragazzi è lì Sta qua col fucile a caccia Spara per terra, ha sparato per terra alla scala E guarda Ha ucciso lui magicamente Infatti anche lui sbalordito non ci crede Cioè è impossibile Eccoci qua Questo qua è un hacker Cioè è l'hack che Prende tutti i headshot Cioè sto qua ti mira in testa e ti segue perfettamente la testa Cioè ogni colpo te basta che spari a cazzo E prendi in testa Tutto headshot ragazzi Guarda 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 Cioè come fa? Come fa a giocare così? Quello che sto dicendo prima ragazzi Secondo voi non c'è gusto giocare così? Secondo me no ragazzi è inutile giocare così Cioè le vinci tutte bravo Non è perché sei forte È perché c'è sta cosa ragazzi Io impazzirei e basta Guardate guardate guardiamo Boom 83 Headshot un colpo giù Va bene gioco Ancora lui ragazzi Quello di prima con la mitraglietta È 11 kill ora Incredibile Oh bravissimo Allora Andiamo a vedere cosa succede ora Comunque ragazzi Sfondate il like per queste serie qua Mi raccomando Ok ha trovato degli avversari Ci siamo Vai vai a vedere quanto sei forte E là madonna ora ne è sbagliata mezza Cioè ragazzi Guarda guarda Bravo Vai Ora mi sa che andrà a fare l'ultimo E vince la partita con 14 kill mi sembra Eccolo eccolo Boom hai vinto E vabbè GG ragazzi Di nuovo quello di prima L'ha fatto in un mezzo secondo Laggiù in fondo ragazzi Vai con gli headshot bro che sei fortissimo Vai 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 Eccolo qua Già lo vedi che è dietro la montagna Già non vale In più va con gli headshot Boom Ciao bello Pure col cerchino Ma vabbè ragazzi Cioè cose da matti Ste cose qui ragazzi Guarda come le prende Boom Vittoria Vi ricordo ragazzi di farmi sapere nei commenti Se voi è mai successo di trovarne uno Headshot stranamente E va giù Poverino E niente ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Se è così Fatemelo sapere Con un like E un commento qua sotto al video Mi raccomando Sostenetelo ragazzi Così che magari porteremo Un secondo episodio Su qualcos'altro Noi intanto Da aggiungere ragazzi Noi ci vediamo Con un prossimo Prossimissimo video E niente Un saluto da Tepezz Bella ragazzi Un saluto da Tepezz Grazie a tutti